buongiorno a tutti ben ritrovati in un nuovo video di makers pro club oggi siamo qui con una nuova miniserie inizierò io con la presentarla riguarderà la presentazione in diversi video dei vari setting bot per centrocampisti attaccanti difensori mi presento innanzitutto perché la prima volta che sono qui fisicamente visivamente sul canale mi avete sempre visto in partita durante le live di johnny io sono zetto alcuni voi probabilmente mi conosceranno alcuni no sono ormai all'interno del team da mai un anno quasi il mio ruolo appunto nel centrocampista invito innanzitutto a lasciare un bel follow sulla pagina instagram di makers pro club un'iscrizione qui sul canale youtube e se volete personalmente seguirmi anche a me io strimo su twitch e mi trovate z 95 e anche ho anche una pagina instagram z to insta se mai vi potesse interessare e oggi inizieremo con quello dei centrocampisti adesso partiamo appunto con la presentazione del bottino qual è il tuo ruolo centrocampista centrale cc salve a tutti sono giovanni aga bomboman e sono il mediano dei makers pro club cosa vuol dire fare il centrocampista centrocampista per me vuol dire essere il collante tra attacco e difesa saper attaccare e allo stesso tempo difendere ma cosa più importante non si può sbagliare altrimenti per un errore non può funzionare la squadra fare il centrocampista significa avere molte responsabilità perdere palla in una zona del campo centrale significa esporre i tuoi compagni a un rischio al rischio di subire gol perdere palla in fase centrale significa anche non fare azioni in attacco se un tipo di interdizione o di impostazione il mio ruolo nel modulo che soprattutto giochiamo noi che il 3 142 è tutte e due io devo sia intercettare che saper impostare dato che devo fare avanti in giro tutta la partita come una macchinetta io diciamo che sono un abbastanza versatile dai forse prediligo più l'interdizione perché forse è più nelle mie corde tuttavia ho la possibilità grazie al modo in cui giochiamo di essere spesso e volentieri il protagonista nell'impostazione della di un'azione preferisce uno stile gioco che prediliga il contropiede o il possesso prolungato il mio stile di gioco predilige proprio come io personalmente come farei anche su foot il contropiede non amo il possesso palla a me piace con quattro passaggi arrivare nell'area di rigore avversaria però per esigenze del team e ordini dall'alto nel club giochiamo di possesso palla dipende dalla squadra dipende dai componenti della squadra personalmente forse prediligo uno stile di gioco basato sul possesso palla credo che su fifa soprattutto quest'anno il possesso palla sia fondamentale perché appunto porta la difesa avversaria ad aprirsi qual è il ruolo più bello per te nel pro club il ruolo più bello è ovviamente il mio ecc barra cdc il ruolo più bello beh secondo me non c'è un ruolo più bello del pro club non esiste perché se nel team makers pro lab sono nel team makers pro club perché è un marchio importantissimo e che ha progetti enormi e grandi ambizioni facile oltre a essere uno dei marchi più importanti noi in italia per sia per quel che riguarda il pro club sia per quel che riguarda il competitive di fifa ma anche per altri giochi oltre a essere questo a parte essere un loro fan già da tempo credo che johnny la furia il capitale makers sia una delle persone più belle che abbia incontrato sul pro club perché consiglieresti alle persone di intraprendere una carriera pro club perché molti capirebbero quanto il pro club è la modalità di fifa che più si avvicina al calcio reale e ti da un'adrenalina pazzesca vincere di squadra con 11 persone è sicuramente molto più soddisfacente che battere una persona ultimate team ma è tutta un'altra sensazione fifa ultimate team fifa offline è un gioco in singolo proverai sicuramente delle emozioni giocando in singolo ma ti assicuro che non è la stessa cosa che giocare con altre dieci persone in mezzo al campo condividendo appunto la gioia di un gol al novantesimo la gioia di una vittoria la gioia di un risultato positivo che serviva ma anche la delusione di una sconfitta la delusione di un periodo buio sono tutte delle emozioni che in singolo non è la stessa cosa provare i compagni di reparto che preferisci sicuramente bombo che ci gioco ogni giorno mi ci trovo molto bene ci capiamo ormai ci conosciamo sappiamo come passarci la palla quando ecc anche pingu quando ci giocava il buongiorno ovviamente io mi trovo bene con tutti quanti guarda io ho un deboli per giorni la furia è lì è la mia mezzala sempre pronto però come non citare anche il mio compagno qui presente z95 sono entrambi delle sicurezze per me cosa ne pensi di hyper zenith oltre che un fortissimo giocatore su fifa è anche una grandissima persona ha una grande qualità quella di stare calmi gestire le situazioni e saper parlare con le persone hyper zenith è una grandissima persona nella mia top 3 delle persone migliori incontrate online non sul pro club proprio online in qualsiasi gioco sempre molto disponibile sempre pronto a dare una mano sempre pronto a darti un consiglio nel momento giusto per zenith è un po come un padre come il padre che tutti quanti noi vorremmo avere in casa per te il cdc è importante in questo gioco se il cdc è fondamentale deve essere la protezione della difesa certo cdc è fondamentale è un consiglio a tutti i cdc il consiglio più grande che vi posso dare io calma non giocate semplice non sbagliate i passaggi posizionatevi in modo tale che il vostro esterno difensore attaccante vi possa sempre passare il pallone credo che per migliorare sia fondamentale chiedersi sempre cosa avrei potuto fare potevo fare di più non smettere mai di imparare un'altra cosa che mi sento di dire e soprattutto quella di non abbiate fretta di correre avanti durante le azioni riattaccare perché il mediano è un poco il perno della squadra invoglia le persone che guardano il video a settare il bot come te a livello difensivo è muscoloso se volete intercettare tutti i palloni avere un ottimo rapporto velocità fisico difesa non è un bot per skillare ma tanto non è compito nostro non si schilla difende basta il mio settaggio del bot soprattutto per quelle che sono le card che ho inserito le abilità insomma sia un settaggio molto croccante molto simpatico quindi vi invito a vederlo con me sicuramente e spero vi piaccia vi assicuro vi potrete togliere sicuramente tante 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 soddisfazioni vedete il mio personaggio è alto metro e 72 per 68 kg questo perché è il rapporto altezza peso per me migliore in game sembra avere un bottino molto più alto di testa nei contrasti al centrocampo quasi sempre si riesce a vincere e anche fisicamente si regge parecchio andiamo a vedere le statistiche interne e andiamo a analizzare i primi punti abbiamo ovviamente la resistenza importantissima per un centrocampista dato che deve fare avanti e indietro avanti e indietro tutta la partita ed essere pronto anche al novantesimo recuperare il pallone che può fare la differenza sia offensivamente che difensivamente e questi sono i punti forza stamina forza e resistenza specialità fisico elevazione resistenza e nuovo vigore difesa di cosa vi sto parlando un centrocampista deve poter recuperare i palloni intercettazione contrasto in piedi contrasto in piedi scivolata specialità intercettazione qua dovete mettere praticamente tutto e andiamo al dribbling il mio bottino mi piace che sia anche agile si possa muovere possa fare cambi direzione in un modo abbastanza rapido repentino e lo reputo fondamentale soprattutto quando si è marcati perché a livelli alti sapete meglio di me che il pressing elevatissimo e quindi uno deve sapersi muovere in un fazzoletto questi sono i parametri ve li faccio scorrere io personalmente sono andato a penalizzare e le massabilità ci sono altri settaggi che prevedono più massabilità per avere si dice giocatore un pochino più agile io personalmente mi trovo bene così andiamo avanti ai passaggi cosa fondamentale principale per un centrocampista è il passaggio io l'ho settati così e passaggi lunghi specialità passaggi passaggi lunghi anche qua e passaggi corti con questi parametri mi trovo molto bene difficilmente sbaglio a meno che non sono estremamente marcato o il mio compagno è chiuso tiri ragazzi non dobbiamo pensare di tirare con questo bottino quindi mettiamo i punti che servono a sbloccare il 3 di debole è fondamentale perché il piede debole non serve soltanto unicamente per tirare ma serve anche per passare la velocità io sono un giocatore che bisogna di un personaggio rapido veloce e reattivo che possa recuperare questo è il mio personaggio che è settato ripeto terzino alto un metro e 72 per 68 kg che può giocare tranquillamente cc ma anche volendo cdc eccoci qua ho cambiato location per presentarvi il mio bottino come avevo già detto l'utilizzo ada un metro e 72 per 54 e adesso andiamo a vedere bene dove sono suddivisi i punti no allora primis abbiamo il fisico utilizzo diciamo tutta la resistenza e forza resistenza fino al nuovo vigore escluso il nuovo vigore questo perché da cdc non si va troppo avanti indietro come magari una mezzala e quindi non ce n'è bisogno punti sulla forza e un punto sull'elevazione difesa non ho tanto perché le statistiche data già hanno una buona difesa migliorato un po il contrasto in piedi la scivolata un contrasto in piedi scivolata diciamo in cui peccava un po per quanto riguarda il dribbling a me piace mantenere il bottino avere il bottino bello agile infatti come possiamo vedere abbiamo molti punti su dribbling equilibrio e agilità soprattutto la specialità equilibrio che ti permette di non diciamo cadere a terra al primo contrasto passando ai passaggi qui c'ho dei punti sul passaggio lungo fino ad arrivare al specialista passaggi riducendo il cross che è molto alto essendo un ada quindi un esterno difensivo che nella realtà diciamo arriva anche a crossare lo specialista passaggi doiamo dei punti appunto al cross scusate il gioco di parole e ha messo dei punti a passaggi lunghi e passaggi corti per quanto riguarda i tiri i tiri non servono a niente in realtà per un cdc servono a poco e niente ma io diciamo le skill necessarie per arrivare ad avere il 5 di piedi deboli e questo perché così sarete liberi di passare la palla anche di fare magari un lancio nell'eono triangolo sia col piede destro che col piede sinistro in linea di massima quindi solo per questo abbiamo questi punti sui tiri per quanto riguarda la velocità dato che a me piace un omino molto veloce subito pronto scattante per recuperare la posizione qualora magari avesse bucato l'anticipo ho tutti i punti con la velocità ragazzi vi ringrazio finalmente avrete visto il video fino alla fine commentate qua sotto se vi è piaciuta questa doppia intervista se vi piacciono i bot fatemi sapere cosa appunto ne pensate io leggo tutto non mi preoccupare vi ricordo nuovamente di lasciare l'iscrizione al canale e di passare dai livelli social e vi ringrazio per la visione ciao a tutti quanti